e silvio mentre mangia la torta silvio e signora e silvio e si bravo per è registrato, è registrato ragazzi è il basino il baceto e va bene la moglie ha detto che va bene dove è il cane? il cagnolino dov'è? ciao bella oh chi c'è qua va aspetta aspetta